Io sono Piacenza, Io sono Piacenza Romina, sono l'insegnante della scuola di danza Città di Clusone che ieri sera è andata in scena con lo spettacolo Il Giro del Mondo in 80 giorni, uno spettacolo che è stato preparato nell'arco di un intero anno dove le allieve si sono esibite mostrando insomma tutto il loro studio. Questa sera invece verrà ripresentato Il Giro del Mondo con i corsi della palestra Center Gym. Grazie a tutti. Per la buona riuscita di questi spettacoli chiaramente sono doverosi i ringraziamenti insomma di tutti quelli che hanno collaborato dietro le quinte che sono le assistenti delle allieve, gli assistenti tecnici ma soprattutto un ringraziamento particolare va a tutti i genitori che durante l'anno hanno seguito gli insegnanti e hanno collaborato con loro al fine di riuscire insomma in questo bellissimo spettacolo. Quindi grazie davvero a loro e un arrivederci all'anno prossimo.